Hello guys, benvenuti in questo nuovo video e a sorpresa abbiamo un box di Battle of Legends capitolo 1 in inglese perché costava meno dove vorrei trovare lui ma soprattutto ci tenevo a portarlo dato che è un prodotto secondo me abbastanza importante per noi giocatori di retroformat dato che ci riporta un po' carte importanti come l'Absolute Zero che viene proposto come, oddio, come rarità Secret e assieme anche al Gaia, tanto apro la confezione a massa che poi è fighissimo, ok quindi abbiamo un po' di confezioni da aprire in questo pack, quindi sono ben 8 pacchetti, eccoli qui ok, probabilmente avrete già visto l'anteprima appunto dei seguenti prodotti ma ognuno di questi contiene un dado tra cui c'è quello del JD che vorrei un sacco trovare, un promo pack in cui sarà contenuta la Secret tra cui appunto Absolute Zero si spera che ne troveremo almeno uno, due saremo molto felici, tre vabbè impossibile però mai dire mai, e poi due pacchetti appunto dedicati all'espansione in cui sono contenute varie ristampe tra cui appunto il Gaia, come stavo dicendo prima, il Gaia, molti, l'Ice War Manca, anche qualche carta per Rat se non erro, tra cui l'Exiton che non ci fanno scrivo, io sì, stavo aprendo anche dal lato sbagliato e non vorrei dire una cavolata ma ci dovrebbe essere anche utopia nella lingua dei segni vabbè ovviamente non è nella lingua dei segni però ci siamo intesi ok, oh, oh, ok, la prima volta abbiamo il primo Absolute Zero, bellissimo, ottimo col dado di Stratos, bellissimo anche questo, quindi uno me lo voglio tenere ho già quello del Cyber Drago, dato che mi è stato regalato anche un pack da Angeli Draghi che è il negozio di fiducia, di base, quindi caso che vogliate venire a giocare con me o trovare in negozio Amos e gli altri, quindi fa senz'altro piacere ok, quindi abbiamo in Tooth Void, Dengo Secca ok, queste sono carte nuove che io non conosco queste erano nel periodo in cui stavo smettendo di giocare uh, questa ragazzi è una vera chicca questa è una chicca che si trovava nel mazzo di Kaius eh, o Structudeck quello di Kaius ed era una meraviglia perché eh, cioè si pompava con i mostri di mostri dal, dal gioco, era bellissimo ok, abbiamo carte di cui conosco diciamo l'esistenza ma non conosco prettamente bene gli effetti dato che non frequento il modem perché appunto le carte che mi interessano all'interno del pack sono appunto le ristampe delle carte vecchie più ok, questa è interessante, ce la mettiamo da parte diciamo in Tooth Void anche questo mazza che brutto comune lui ok, numero 90 uh, oh, il JD bello molto 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 bello è molto bello e anche questo il Kaiju, non mi ricordo pure che si giocava nell'ultimo periodo in cui ho frequentato oh, c'è anche lui, non lo sapevo ho frequentato diciamo assiduamente il formato giocando competitivo ok, questa è la prima box sì, c'è il primo box, scusate la prima confezione io mi ostino ad aprirli sempre da un lato incredibile e andiamo avanti con la seconda quindi vediamo che dato troviamo e che promo uh, abbiamo il Kaiju quello d'acqua e il dado, quello blu ah, è del Link ok, questo diciamo lo terrò per collezione però diciamo avrei preferito quello di tutto altro come quello del GD o del Saribe Drago che però appunto già ce l'ho quindi spero di trovarne dati diversi nel box allora, procediamo con l'apertura del prodotto ok, ho Lumina Into the Void Quick Launch di nuovo uh, U-Bell molto molto figa che poi la versione con la fusione mi penso di non averla presa prima che sta salendo veramente di pezzo come cartina 1F0 common questo pure era nel periodo in cui stavo smettendo sì, tutti i periodi in cui stavo smettendo diciamo che le common vogliamo metterle un pochettino da parte un attimo più le promo qui ok e continuiamo con il secondo pacchetto del secondo ehm sì, contenitore lo stavo chiamando Celestia buona ok Lumina buona solo a recharge addirittura common buona oh mi piace perché abbiamo trovato lo U-Bell mazza abbiamo trovato i due però sono in realtà diverse se non erro perché uno ha la scritta dorata e uno ha la scritta argentata e infatti hanno fatto questa cosa ok più questa ok vabbè vi faccio vedere ah mazza vortice alla nera oh come si chiamavano loro i Phantom Knight bellissimi dato perché uno dei miei ultimi mazzi competitivi è stato Burning Abyss nel lontano ormai 2015 sì 2015 avevo cominciato a buildare Burning Abyss che era anche ehm se non erro l'espansione no un altro un altro coso di Stratos no è volato via il nuovo Neos il Wiseman Neos suomo saggio poi abbiamo l'altro dato di Stratos magari se lo vuole qualcuno i miei friend lo sbobbendo vediamo un pochettino e intanto continuiamo l'apertura di questo allora eh sì ah mi consigliate l'acquisto di questo box sì se volete magari divertirvi nello sbustare alcune carte ma Raiden questo per il formato hat come vi dicevo Gaia per il formato hat come vi dicevo ci sta Rubino ok abbiamo trovato tutti i Hubel bello ok abbiamo trovato tutti i Hubel bello il Trishula nuovo e questa era la carta di Dice Monster per chi non lo sapesse Dice Monster era ehm nell'anime quando eh non mi ricordo come si chiama uno dei rivali che poi diventa amici uno degli amici del del gruppo oh 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 il Gaia e bello anche lui però lui eh al momento non mi viene in mente il nome perché giustamente ogni volta che faccio il video bello il 107 anche se common se veramente brutto Wolf Nova Master Felis ok anche lui ecco aveva anche questa carta qui era Orgot e era praticamente dopo l'isola del di Pegasus come come saga Extra Hero Wonder Driver ok Elemental Iron Eos e Esculiao che col nome spagnolo ok ok Synchro Arpia che non conosco ora lo conosco mettiamo qui Dado di il rosso ah del Big Guy molto molto figo molto molto bene e mettiamo ancora da parte insomma sto Dado del GD nada ma nemmeno da Angel quando li stavano li stavano aprendo il passo di vederlo è veramente così raro un Garroth quindi vedete ottimo Laila è veramente ottimo per giocatori di di Edison un'altra Yubel di Edison che vogliono buildare diciamo l'Iseworn Fusion Destiny ma anche amanti del vintage in generale perché ci stanno appunto carte vecchiotte io vero che non è proprio vintage vorrei trovare lui perché per chi non lo sapesse sarebbe la versione aggiornata del Drago Imperatore del Chaos che è una delle mie carte preferite del gioco o Celestia Wolf ma stiamo a fare tipo dico quasi tutto l'Iseworn ma ci siamo ok Raid Raptor uno degli archetti preferiti di uno dei best friendly Solar Recharge Vision Release un'Archmia oh il numero 54 questo usciva dalla guerra di giganti mi pare qualcosa del genere cioè sto veramente ragionando lì oh quindi la Minerva esiste anche qui attenzione la Minerva L'Iseworn ok questo per farmi capire il mio grave di vecchiaia su YouTube signo che spacco cose abbiamo un altro Wise Man e l'ennesimo dato di Stratos che anche ripeto quando sono stato da Angeli è stato il dato più trovato praticamente e mannaggia mannaggia che vediamo l'utopia quella lingua dei segni ok Nova Master questo è utile per Tengu Plant chi non lo sapesse Destiny oh che figo Dangerous Destiny Hero White Moray tutte carte nuove questo no Trinity Raid Raptor oh questo è il mazzo Key Blue un altro Lionheart e Security Dragon ok Fossil Warrior oh Fortice Nero e qua possiamo andare abbastanza spediti ok c'è anche la Fusion Destiny che quando ho ripreso a giocare su Master Duel ricordo che era abbastanza rottina come carto meglio la fusione la fenice come cavolo si chiama e comunque off topic è veramente bello aprire i pack con la pioggia in sottofondo mamma mia che vibes che ti dà proprio di nostalgia pura TG TG quanti TG nuovi oh questo è il mazzo dinosauro Endimio questo lo potete sfruttare teoricamente in Iro ma non è proprio il massimo Wolf c'è in Endimio scusate in Iro Pettenkuplant un altro di questi di nuovo l'elefante matto oh bella Emergency Call Ultra con la scritta argentata molto molto figa per realizzare Iro e anche un nuovo Neos che non ci dispiace e ancora nessun GD ok questo mi pare sia del Cyber Drago che Viola eccolo qua bellissimo quello del Cyber Drago ragazzi veramente figo Viola questo sicuro mi piacerà oh mio amico un'altra di questa qui e altri due pacchetti da aprire e ancora non ho trovato il dannato Drago ehm ultra raro cioè ultra raro Drago Imperatore del Chaos quello Pendulum ma mi piace un sacco l'Artwork cioè sì che i Pendulum non mi piacciono ma l'Artwork è veramente veramente bello e soprattutto non abbiamo trovato l'altro Absolute Zero un attimo solo mi sono perso ok oh stra eccolo oh abbiamo Stratos con l'Alternative Artwork che non ci dispiace lui e un GD beh questo direi il mio non god pack però personalmente parlando per i miei gusti mazza hanno fatto anche lui una delle carte più belle il Chaos Neos veramente bello veramente bello comunque molto soddisfatto se avessi trovato nella confezione anche il Dado del GD e l'altro Absolute Zero veramente veramente best pacchetto da aprire Denkosecca questa è la metà di Satellar Knight mi ricordo si giocava Fossil non so cosa sia noi i visionino Dinosauri vado un po' più spedito due Lice War ok oh il Kaiju quello di fuoco rapture questa mi pare fosse cercata ok si stavo leggendo un po' di casino tanto poi me le imbusto piano piano ok abbiamo anche il prisma ok il rosso dovrebbe essere quello del big guy oh drago armato bello questo dovrebbe essere quello del big guy e niente dato del GD porca miseria ma io sto rodendo male se non lo trovo c'è in un box intero nessun dato del GD che coraggio che vergogna che vergogna ok noi intanto continuiamo a sbustare e vi ricordo anche di seguirmi sempre sui miei social un vanity questa mi ricordo valeva per un periodo quando c'era solo ultra raro la devo rileggere un cyber dragon cioè con alternative con artwork alternativo bello ultra sempre questo per il blue eyes il numero 54 per il resto carte abbastanza preparazione dei riti se volete fatemelo sapere se volete la versione araldo di agent che da portare sul canale o quantomeno una versione che sfrutti quella carta lì nel formato Tengu Plant o anche Edison perché no che sono in due formali che appunto frequento di ok ma l'anima di oh ecco quando parte l'insulto cominciano a uscire le carte buone Crusader Galaxy Soldier figo qui sono ottengo lo stesso da parte ok Yubel e mamma mia spesso vabbè dai non male ci manca ancora una confezione giusto spero ok è caduta una confezione a terra allora ragazzoli in chat scrivete Absol Zero please come se fossi in live pur io vabbè sono deficiente e niente poi seguitemi sui miei social anche se devo dire abilità non faccio molti post ma sono praticamente tranquillamente reperibile ok brividi brividi il dato del gd è un dato viola mi sa è quello del cyber drago mannaggia niente dato del gd porca miseria poi me li mando a prendere con oh e non ho manco cacato questa mannaggia volevo l'absoluto zero te sei raro figlio mio sei veramente raro e desiderato soprattutto molto desiderato tanto desiderato dai giocatori di edison ma anche qualquelli di modo onestamente ma anche dengue sei tanto tanto desiderato peccato che sei una promo così la gente ti compra spam mazz doppio jubel più il puppet mazzipuppet pure che ricordi forca uh delta nin questo è interessante me lo metto da parte che questo posso elaborare qualche lista carina di erison uscendo un po' dai classici cani vaio alla nera hero bla bla ok ultimo pack ragazzuoli speriamoci andrà bene vediamo un pochettino kaiju vanity sfint oh questo lo vedrete nella deck list natura che arriverà prima o poi sul canale veramente combo lock definitiva ma non come quella di six ma questa vera sonic stung non so cosa sia stanno stung galaxy soldier neogalaxy tc e no ci siamo fatti lo spoilerone no è andato malissimo vabbè la balenona chi c'è qui c'è qua dietro 2004 il kaiju ragno e basta quindi niente utopia con l'artwork cioè con l'artwork tutto particolare e niente ragazzuoli tutto sommato un dato benino dato benino siamo soddisfatti comunque di aver trovato almeno un abzo zero quello assolutamente abbiamo un po' di roba hero e come al solito le robe in più quelle che non mi servono le trovate su card market dove appunto ho il profilo in cui vendo tutte le mie carte in più e sfrutto diciamo i soldi guadagnati per portarvi contenuti qui su youtube quindi io come al solito se volete contribuire anche al progetto del canale vi ricordo sempre di iscrivervi lasciare un mi piace un commento perché mentre lo share appunto del video e quindi se vi piacciono contenuti retroformat unboxing di prodotti moderni soprattutto vintage iscrivetevi al canale perché appunto trattiamo tutto ciò che è retroformat detto questo io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto seguitemi sui social venite su discord per far parte della community e ci vediamo ad un prossimo video see you next time wii u